Comunicando, comunicando, intanto della vita io mi sto innamorando, comunicando, comunicando Buonasera a tutti amici di Volonbrite, siamo qua all'ultima delle serate dei dialoghi della salute 2018 abbiamo con noi Elena Cofano, psicologa, psicoterapeuta per il progetto Aria La prima domanda che ti farei è, secondo te, perché è importante che una realtà come Aria abbia uno spazio all'interno di un evento simile? Innanzitutto perché noi ci occupiamo di adolescenti, gli adolescenti sono, come dire, con cui saranno il futuro e noi in qualche modo li ascoltiamo e la cosa importante che facciamo è quella di dare uno spazio a chi voce ne ha poco infatti si parla molto di adolescenza ma in realtà pochi sono coloro che parlano con gli adolescenti più che altro il sentire comune vede l'adolescente come un problema, come una fase problema in realtà è anche una fase bella della vita e spesso gli adolescenti, anche più problematici, hanno tante risorse e questo è quello che noi facciamo ad Aria e questo è anche salute in qualche modo il trovare le risorse e le capacità dentro ogni persona insomma Grazie mille, in conclusione che cosa fai per la tua salute? Cosa faccio per la mia salute? Beh innanzitutto faccio un lavoro che mi piace tantissimo che è la mia passione e questo mi fa stare un sacco bene e poi bevo tanta acqua come c'è il mio medico Allora grazie mille per la collaborazione e alla prossima